Oggi andiamo a parlare di un altro vino presente nella nostra cantina Elements. Andiamo a parlare della Franciacorta Cade del Bosco Prestige Cure. Nasce dalle migliori uve chardonnay di quelle composte il 75%, con una piccola percentuale di pino nero e pino bianco. E' uno spumante nato nel 2007 ad Arbusco, in provincia di Brescia, da una selezione di uva dalle più pregiate, delle 134 vigne diverse, di età media tra i 29 anni, dalle quali viene effettuata una vendemmia dove le uve vengono raccolte in piccole cassette per tutelare al meglio gli acini e questa vendemmia si svolge dalla prima alla terza settimana di agosto. Successivamente viene il lavaggio delle uve. Avvengono i neidromassaggi, l'uva fa un ciclo di tre diversi lavaggi e servono sostanzialmente a eliminare quelli che possono essere pesticidi che vengono dati durante la maturazione dell'uva. Servono anche a togliere eventuali polveri sottili che si possono essere depositati su di essi. Successivamente avviene la vinificazione, avviene il serbatoio di acciai termocondizionati per otto mesi per poi essere uniti alle migliori annate per un migliore cuvè. La rifermentazione avviene in bottiglia secondo i principi del metodo classico e l'affinamento sugli eviti dura circa 25 mesi, donandogli una personalità unica e ricca. Si tratta di un brutto a tutti gli effetti, dosato con 4 grammi di zucchero per litro. Il ca del bosco si presenta una volta servito con un manto prestigioso, giallo paglierino, solcato da fini bollicine ma persistente. All'olfatto libera un'aggressiva fra grandi sentori da quali la mela, la pesca, frutti esotici, vivace, elegante ed equilibrato. Il ca del bosco prestigio si sposa perfettamente con antipasti leggeri, a base di pesce o verdura. Ha secondi piatti di mare, ottimo con carpacci di pesce, sushi o anche kumabetti. Carissimi soci, spero che questo video vi sia piaciuto, un caro abbraccio da essi.